Grande successo di pubblico all'inaugurazione della Kermesse Prendas de Ittiri, il taglio del nastro con i giganti della Dinobanco in Sardegna, aperto ufficialmente una tre giorni dove i visitatori potranno gustare i prodotti locali e riscoprire antichi mestieri. Un segno di identità forte e coesione tra artigiani e produttori che sottolinea la cura con la quale si lavora quotidianamente per combattere le invasioni altrui. Gli espositori sono consapevoli che la qualità è importante per potersi distinguere e necessita di una cassa e risonanza chiara. La manifestazione Prendas de Ittiri è arrivata alla dodicesima edizione e aspetta migliaia di visitatori che non perderanno occasione per riscoprire tradizioni e metodi di lavorazione che si tramondano dalla notte dei tempi. Prendas de Ittiri sarà fruibile fino al 2 aprile.